Allora Mario, hai accennato prima alla comunità europea, nel senso che abbiamo parlato adesso della realtà locale, vorremmo sapere qualcosa su cosa pensa la comunità europea e quello che potrebbe fare per Cortemiglia da diversi punti di vista? Per Cortemiglia la comunità europea potrebbe fare innanzitutto le strade, che siano più avviabili e più scorrevoli, perché qui gli stabilimenti non vengono più proprio per le strade, per la comunità è tutto. E della comunità europea in generale cosa ne pensi? La comunità europea in generale penso che è una cazzata se non fa certe cose, perché devono farle, perché se no i giovani se ne vanno da qui, vanno via da Cortemiglia, non c'è più prosperità, non c'è più niente, finitere superiori, spariscono tutti e invece bisogna fare qualcosa per loro, perché restino qui, perché la gente prosperi, perché che Cortemiglia torni a essere il posto che era una volta, invece ultimamente Cortemiglia sta morendo, e questa è la vera realtà e lo puoi chiedere a tutti i cortemigliesi. Se mai saluti Mario. To best sempre and forever.